Resta in carcere Giuseppe Rendina, 45 anni, di Trinitapoli, nella BAT, presunto autore del duplice omicidio di Gerardo e Pasquale Davide Cirillo, padre e figlio di 58 e 27 anni, i cui cadaveri sono stati ritrovati lo scorso 31 luglio in un terreno agricolo nelle campagne di Cerignola, nel Foggiano, e quanto stabilito dal GIP del Tribunale di Foggia al termine dell'udienza di convalida del fermo. Rendina è accusato di duplice omicidio. Le due vittime sono state giustiziate con un colpo di pistola alla nuca e poi i loro corpi, senza vita, sono stati avvolti in sacchi di plastica e nascosti sotto un cumulo di tubi per l'irrigazione. Il legale del presunto omicida, l'avvocato Stefano Di Feo, ne aveva chiesto la scarcerazione, ritenendo che non sussistano gravi indizi di colpevolezza. In base ad alcuni elementi investigativi, gli inquirenti collocherebbero Rendina sul luogo del duplice omicidio. Al momento la polizia sta seguendo la pista di un presunto debito di 13.000 euro. Non è chiaro se le due vittime fossero debitrici o creditrici.